ciao questo nuovo video che che solito che faccio sui sui film che che riesco a guardare anche se magari questo qua è un film storico che è uno di quelli che ho riuscito a guardare da piccolo che ogni tanto magari vado a riguardarlo visto che magari non gli avevo dedicato magari ancora un video mare sul sul mio canale ne volevo fare uno che volevo parlare di i gunnes che un film dell 85 che è uscito quando ero piccolo io che qua in italia e ha uscito alla fine dell 85 che quando è uscito morai qua in italia e al 20 dicembre dell 85 che essendo morai un film è il solito morai film americano morai qua in italia esce sempre quei tre quattro mesi dopo rispetto mai all'america che come che come magari film è uno di quelli storici che che come magari come genere tocca quella avventura un po' commedia che dura quasi anche due due ore con 114 minuti più o meno 1 e 54 1 e 55 di film che lo si può morai ancora trovare magari su qualche se qualcuno mai a qualche mai abbonamento su qualche piattaforma lo si può morire ricoprire magari anche anche gratis che magari ogni tanto lo possono magari anche televisione che lo si può magari certe volte magari lo si può anche magari ricoprire magari anche gratis dipende ma anche piattaforma però è ancora recuperabile come film che dell'ottanta come film e dell'ottanta 5 che come il regista e questo richard donna che parla più che altro magari di questo gruppo di ragazzini che abitano magari nello stesso quartiere che hanno trovato questa mappa di willy willy l'orbo un pirata del diciassettesimo secolo che decidono di trovare questo questo che trovando questo di questo willy willy l'orbo come si dice quello scopo magari di salvare il loro quartiere dove abitano da questo progetto di riqualificazione urbana che con questa riqualificazione di riqualificazione del loro quartiere magari causava magari la separazione di questi gruppi di ragazzi che come storia ho visto che è molto bella che adatta ai magari il solito film e magari per ragazzini che anche magari questi film vecchi 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 magari magari certi film vecchi tipo questo qua anche magari guardati magari anche magari anni dopo restano mai sempre sempre belli e sono male anche hanno fatto male anche la storia che ho visto che anche quello che ho capito io però non so se giusta la notizia però ho visto che nel 2016 hanno fatto non so se l'hanno già fatto o avevano solamente l'intenzione però vogliono tipo fare il proprio il proseguimento di questo film e i gun s2 adesso non ho capito se hanno proprio fatto il film o è stata o è amore solo un progetto ancora da 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 mettere marei in ancora da un progetto marei ancora da in fase marei di progettazione però poi il primo film quello dell'85 è un marei è uno di quei marei film storici che ha che sicuramente la maggior parte dei dei ragazzini marei ha guardato come altri che marei come ho detto marei anche prima marei è uno di quei film che possono passare marei anche gli anni e che resta sempre è uno di quelli film che resta marei sempre belli confronto confronto marei accetti marei film che stanno facendo marei anche anche marei ultimamente e niente che marei come al solito quando faccio questi video sui film lascio sempre il video trailer sotto marei descrizione con il cast delle persone che degli attori bambini attori che hanno partecipato a questo film e anche marei la la trama e qualche informazione su questo su questo film su questo film da me dalla mia parte marei uno di quei sicuramente film belli che marei storici che marei belli belli da guardare che adatti magari anche marei che marei chi marei più a quel più o meno marei la metà sicuramente lo avrà tipo guardato e lo può morire far vedere magari anche alle nuove generazioni che marei che resta sempre un bel film questo qua che si sono passati magari anche degli anni di questo gruppo di ragazzini che inseguono questo di questo oro di questo oro di willy di willy willy l'orbo che è fatto anche molto bene anche questo richard donne come regista è stato anche bravo marei anche a fare a marei a fare marei mettere insieme marei le scene del film che ho visto che ha fatto marei come film è riuscito marei anche anche bene eh e niente che marei quello che marei poterò marei anche dire su questo film marei l'ho già detto che eh sicuramente marei questo film è uno di quelli che va sicuramente guardate ha guardato almeno una una volta nella vita che resta sempre bello questo film eh e niente quello che poterò marei di su questo film marei l'ho già detta eh al massimo ci vediamo sicuramente marei più avanti con i miei soliti marei eh i miei soliti marei video che marei che porto marei sul sul mio canale e niente eh eh per adesso marei vi saluto e ci vediamo eh ci vediamo al prossimo eh sicuramente marei più avanti sul mio canale con i miei soliti video e niente ciao ciao